Quanti chili sono? Un dibattito sullo peso di Leo Quanto sono 6 onze? 4 che erano 2.1 6.1 e 2.7 Guarda, guarda, due donne che mi stanno alzando le mani Guarda, guarda, questa è violetta Stiamo andando a mangiare fuori A me mi è appena arrivato il merchandise di Lil Xanax Però lui adesso ha insultato Tupac E quindi probabilmente Odiano tutti Lil Xanax Ma in America mi picchieranno questa sera Amore, se me lo fai ti giro Cosa? Mi stacco il cazzo Amore Stai facendo finta da mezz'ora Allora, vi racconto un anedoto sul PA Praticamente lui sa tutto Cioè, adesso stavamo parlando di un amaro E lui sa che lo fanno solo in Valtellina No, lo vengono solo a Livigno Ah, a Livigno No, lo vengono solo a Livigno